L'innovazione tecnologica è fondamentale in un momento particolare, è un momento che viene dopo un periodo quasi di stasi. Io paragono la pandemia anche per il business dell'aviation, quindi del mondo del trasporto aereo, è passata in una gara di Formula 1 la safety car, ha portato tutti quanti dietro e ha rallentato tutti quanti. Quindi abbiamo avuto un'opportunità, quella di poter chiudere il gap capacitivo e tecnologico che sfortunatamente avevamo maturato nel tempo. Oggi con delle scelte importanti, fare delle strategie così importanti in così breve tempo su partnership industriali con colossi del trasporto aereo, vuol dire avere coraggio nell'innovazione, sapere individuare le tappe e soprattutto avere una vision, una mission chiara che ci possa portare a traguardare i nostri obiettivi.